Tragedia sfiorata questa mattina lungo la provinciale 35 della Valle Seriana all'imbocco del Ponto del Costone dove una Land Rover è andata a schiantarsi contro il Guardrail le cui lamiere sono penetrate nella carrozzeria dalla parte del passeggero senza provocare feriti. Il conducente, un uomo di 38 anni residente a Ponte Nossa, unica persona a bordo, è uscito indenne dall'incidente. Può ritenersi un miracolato. L'episodio è accaduto verso le 6.15 quando il fuoristrada che scendeva verso Bergamo per cause in via di accertamento è sfuggito al controllo del conducente ed è andato a urtare contro la barriera metallica al lato della strada all'entrata del ponte. L'asta metallica del Guardrail ha trapassato il vetro del parabrezza, è penetrata sino allo schienale del sedile della parte di lato al conducente, fortunatamente non occupata da alcuno. La macchina ha riportato danni gravissimi alla carrozzeria e al parabrezza che è risultato sfondato. Sul posto è intervenuto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gandino per i rilievi e non c'è stato alcun bisogno nemmeno dell'intervento del 118, in quanto l'uomo, che era la guida della Land Rover, era uscito in colume dal pauroso incidente, sia pure vivendo attimi di grande spavento. Il soccorso stradale neri di Ardesio, avvertito telefonicamente da un passante, ha provveduto con il braccio metallico in dotazione a strappare letteralmente l'automezzo rimasto incastrato nella barriera metallica di protezione. Lo stesso titolare del soccorso stradale ha ricordato un episodio analogo accaduto lo scorso anno, quando la jeep di un ragazzo degli spiazzi di Gromo era in corsa nello stesso incidente e nello stesso punto, rimanendo infilzata, per così dire, nell'asta metallica del guardrail. Le operazioni dei soccorritori e la rimozione del mezzo incidentato, cui hanno partecipato anche i cantonieri della provincia, hanno creato qualche problema al traffico che è ripreso poco dopo con regolarità.